5 pronti per queste due ore minuti più minuti meno in cui saremo in compagnia vostra come sempre vi aspettiamo tanti numerosi giovedì scorso veramente credo non li ho contati ma d'avere battuto abbiamo battuto il record di messaggi di sms whatsapp abbondantemente oltre 150 360 10 38 330 vado subito a presentare quelli che sono i compagni di viaggio di questa serata allora cominciamo dal collegamento in esterno che abbiamo il primo dei due collegamenti in esterni che abbiamo con il suo studio di galleno dove lui vive il collega giornalista della nazione di radio bruno massimo stefanini buonasera massimo buonasera a voi grazie massimo di aver accettato intanto il nostro invito massimo è stato tante volte nostro ospite qui negli studi di curvo ovest ora almeno per ora come sapete non si può e poi poteva mancare no chiaramente non poteva mancare lui è il nostro compagno di viaggio ormai da un decennio giulio castagnoli buonasera giulio buonasera buonasera guido buonasera massimo buonasera a tutti i tifosi della lucchese e nonne beh stasera te la vuoi subito cominciare tanto sempre nel mezzo vabbè ormai stasera te rifaccio io prima che te rifacciano da casa complimenti per la tua eleganza indubbiamente è massimo che dici grazie un'opinione di te elegante giulio è imbattibile su questo profilo è imbattibile non esagerare diciamo che qui a lucchia insomma è nella top 5 da anni ormai accidente addirittura addirittura va bene allora siccome Giulia subito saranno due ore immagino anche stasera molto calde tra l'altro per un'ora avremo in nostra compagnia anche massimo poi giustamente lo dovremo congettare perché non so se ha già chiuso i pezzi sul giornale che tutti i giorni leggiamo sulla nazione massimo si occupa veramente di tante cose ma insomma non vogliamo tenerlo per due ore lo vogliamo liberare un po prima io però prima di partire con tutto quello che concerne il momento sicuramente molto molto complicato molto difficile della lucchese volevo ricordare per quei pochi due o tre che ancora non sapessero che stasera e da qui alla fine del campionato non avremo più i collegamenti con lo stadio Porta Elisa perché la lucchese da martedì vi leggo il il comunicato che è giunto martedì pomeriggio alle 16 e 15 sono proprio quattro righe quindi faccio presto la società lucchese 1905 prendendo atto e consapevolezza del delicato momento sportivo comunica l'irrevocabile decisione di indire il silenzio stampa dei tesserati fino al termine del campionato in caso di necessità o d'esplicita richiesta il presidente rosso nero bruno russo rappresenta l'unica persona preposta a rilasciare dichiarazioni poi aggiunge vi leggo anche queste due righe il comunicato si richiede pertanto alla stampa locale e non di rispettare la volontà societaria con il massimo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i media vicini ai colori rosso nero noi naturalmente siamo rimasti anche un po dispiaciuti anche se rispettiamo naturalmente la decisione della lucchese ci mancherebbe altro perché come sapete avevamo già annunciato già da giovedì scorso con la presenza di Vichi che stasera sarebbe dovuto essere dovrebbe dovuto intervenire il direttore sportivo della lucchese Daniele De Homma e non è così preso atto di questo volevo subito sentire proprio molto telegrafici prima massimo e poi anche Giulio Castagnoli su questa che è stata diciamo finora un po' la notizia della settimana dopo dopo la partita di Piacenza massimo silenzio stampa te l'aspettavi a questo punto ti ha colto così di sorpresa il tuo giudizio no non me l'aspettavo di sicuro e mi ha sorpreso molto perché a quattro giornate dalla fine del campionato il momento delicato a cui accendo il comunicato stampa credo che sia che duri dalla prima giornata forse questa stagione oppure oppure comunque da un po' quindi non non me l'aspettavo e non l'ho nemmeno capito però va rispettato va rispettata questa decisione che ha preso la società Giulio? Ma io mi sembra di aver capito che nelle ultime settimane vuoi quando è venuto Bruno Russo qui in trasmissione vuoi quando è venuto Alessandro Vichi e poi c'è stata un'altra puntata mi dicono che purtroppo non ho visto di corner corto dell'amico Fabrizio Vincenti dove era presente Bruno Russo la settimana scorsa dove chiaramente i toni non sono stati assolutamente bassi quindi credo che in un momento come questo anche se magari forse a questo punto è anche inutile però credo che sia stata una decisione giusta che forse era meglio se veniva presa qualche settimana prima perché poi tante cose sono state strumentalizzate qualcuna è stata detta magari in maniera un po' superficiale quindi non hanno fatto altro purtroppo che così buttare un po' di benzina sul fuoco e a questo punto diciamo che la decisione la ritengo giusta per i motivi che ho detto. Allora io prima di continuare e di vedere i numeri della giornata compresi i tre recuperi di mercoledì Marco Cervelli che questa sera come sempre quasi sempre è capitato in questa stagione abbiamo al bancone della regia Marco abbiamo quella foto quella foto della maglia che la lucchese ha voluto donare in ricordo di Vincenzo Pierucci chi era mai Vincenzo Pierucci per coloro che non lo sapessero è stato per vent'anni presidente dell'ente nazionale sordi di Lucca naturalmente ha contribuito molto anche a quello che ormai da tanti anni rappresenta il nostro telegiornale LIS per i sordi e appunto e quindi ha donato questa maglia alla società lucchese noi ne approfittiamo ancora una volta per rinnovare le condoglianze alla famiglia del povero Vincenzo Pierucci che era un grande appassionato e tifoso della lucchese aveva 80 anni e nei giorni scorsi purtroppo ci ha lasciato ci ha lasciato. Allora andiamo a vedere Marco i numeri della giornata che poi qui voglio innescare la prima la prima discussione perché poi alla fine possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo ma contano questi eh contano questi che sono risultati della 34esima giornata attenzione mancano solo quattro giornate alla conclusione eh alla conclusione del 2 maggio questi sono risultati non ve li sto a rileggere perché queste sono le partite di domenica scorsa però eccola poi adesso vedremo anche le immagini a lucchese ha pareggiato una piacenza ancora una volta facendosi raggiungere e sprecando secondo me forse diciamo una delle ultime occasioni per poter alimentare la famosa fiammella di cui parliamo se a questi risultati aggiungiamo i risultati dei tre recuperi Renate Pergolettese 2 a 0 Pistoiese Juventus B 1 a 1 e Olbia Cararese 1 a 0 ne consegue questa classifica eh a quattro giornate dalla fine poi vi diremo che ci sono ancora eh c'è ancora una squadra con due partite in meno e due con una partita in meno cioè ci sono da recuperare due partite Como 65 e il Como ha una partita in meno quella con l'Olbia poi Alessandria 62 Provercelli 61 Renate 58 Propatria e Lecco 56 Pontedera 49 Juventus B e Albinoleffe 46 7 Grosseto 44 queste squadre in questo momento al di là della prima che logicamente promuove subito in Serie B sarebbero ai playoff poi Pergolettese 43 Novara 42 Piacenza Cararese Olbia Olbia con due partite in meno a 40 punti poi entriamo nella zona calda Prosesto 39 Gianarminio 38 Pistoiese 28 Lucchese 27 Livorno 24 in realtà per tutto quello che abbiamo detto anche nelle ultime puntate considerando la famosa forbice che deve essere al massimo di 8 punti e non oltre se il campionato fosse finito stasera Livorno Lucchese e Pistoiese sarebbero tutte e tre retrocesse direttamente in Serie D questo signori è quello che conta poi discorsi ne possiamo fare tanti polemiche anche sui social mi diceva Giulio me lo confermi che sui social sono sempre particolarmente vivaci? Eh sì ma io dico anche giustamente no ma è aperto dicendo saluto i tifosi e non poi questa questa ne parliamo poi nella seconda parte ho detto i tifosi della Lucchese e non ah i tifosi della Lucchese e non vabbè forse avevo capito diverse massimo come la vedi questa classifica allora personalmente da un po' di tempo continuo a sostenere questa cosa che non vorrei portare male alle tre alle tre nobili del Gran Ducato però mi affido ai numeri non ad altro sì è proprio così allora intanto a me fa tristezza perché non sono tre società qualsiasi con tutto rispetto ecco stiamo parlando del ponte di legno visto che ci sia in in Toscana eh non voglio non voglio urtare la suscettibilità di nessuno ma insomma comunque si sta parlando di Lucchese Livorno e Pistoiese che insieme credo che abbiano eh anzi sono sicuro che hanno più di venti campionati di Serie A eh nella loro storia e in particolare Lucchese e Livorno noi abbiamo fatto come nazione anche uno uno speciale perché mh ci sono quattro squadre molto blasonate che di del Gran Ducato di Toscana che rischiano di andare a far compagnia ad altrettante eh blasonate come Siena e Prato perché oltre a Lucchese Livorno e Pistoiese c'è anche l'Arezzo nel girone B che è penultimo eh è sul limite della forbice e quindi rischia moltissimo qui però eh Guido hai fatto vedere la classifica secondo me perfettamente perché eh qualcuno pensa ancora all'ultimo posto l'ultimo posto mh evitarlo non conta niente se non ci sono i punti necessari per coprire la forbice con la quinta ultima e in questo momento la procesta a 39 dicevi bene l'olga a 40 addirittura ha due partite da recuperare e quindi in questo caso la Lucchese a 12 punti dalla Pro Sesto la Pistoiese a 11 credo che queste tre squadre veramente eh rischiva molto anzi io se vuoi proprio la mia il mio commento sincero credo che siano retrocesse che non ci siano speranze però spero di sbagliarvi soprattutto per la Lucchese che ha perso ovviamente gli è girata la stagione dove contro la Gianna Erminio perché se la Lucchese avesse avuto quei tre punti lì a 30 punti e la Gianna invece tre punti in meno a 35 eh cambiava molto e invece così io credo veramente che ci sia poco da fare ripeto spero di sbagliarvi comunque i numeri sono piuttosto impietosi sì parleremo di un'altra storia secondo me sono due le partite voglio sentire anche l'opinion leader poi in questo primo blocco voglio parlare anche della partita di Piacenza Giulio secondo me sono stati due gli snodi finora che purtroppo hanno portato a questa situazione calcisticamente eh annotatevi bene questo avverbio parlando drammatica Lucchese Novara 0 4 quando quella domenica ero allo stadio mi ricordo bene si respirava il clima prego Giulio 1 a 4 eh sì vabbè 1 a 4 quando si respirava prima di quella l'1 a 4 lì di cui parli sì perché il gol della Lucchese mi sembra arrivò in fondo sbaglio sì quasi in fondo eh si respirava un clima non so se ti ricordi Giulio di qualcosa che stava maturando in senso positivo la squadra sembrava rilanciata anche sul piano del gioco aveva fatto qualche buona partita e poi come giustamente sottolineava Massimo Stefanini che collega veramente sempre molto attento su tutte le situazioni sì la partita di 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 Gorgonzola con la Gianna Arminio confronto diretto vinci 3 a 1 non puoi perdere la 4 a 3 sono questi due passaggi al di là di tutto il resto Giulio di cui poi ci sarà modo di fare un'analisi a fine stagione secondo me i passaggi sono due ma non sono Novara e Gianna Arminio ma sono Rosesto e Gianna Arminio e ti spiego il perché perché con Novara diciamo la partita era diciamo abbastanza là nel tempo e quindi vista la mediocrità del campionato che veramente un campionato mediocre scarso inguardabile non ora però non devi esagerare Giulio perché no 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 io dico quello che penso per me è un campionato di queste squadre qui io ho visto sabato piacenza lucchese la partita della piacenza lucchese di sabato scorso vent'anni fa forse era una partita di promozione forse forse secondo me stai stai un pochino esagerando però Giulio rispetto la tua opinione perché poi hai detto il piacenza ma il piacenza a sua volta ha avuto parecchi problemi ad un certo punto sembrava sembrava invischiato ora probabilmente ne è fuori però comunque ecco dico la partita che più a parte quella con la Gianna che è stata una comica ma quella con la Prosesto anche perché ti dico questo perché la Prosesto a oggi secondo me è l'unica squadra che può essere risucchiata e rischia parecchio perché c'è anche delle partite abbastanza difficili domenica incontrerà l'Alessandria che è una squadra lanciatissima l'ultima incontrerà il Livorno che è una squadra che a seconda di quello che farà a Lucca domenica è una squadra che viene da due vittorie consecutive quindi è rilanciata con poche speranze ma se la lucchese le speranze le può avere anche il Livorno e poi ti dico l'arbitro del campionato per quanto riguarda la retrocessione sarà il Renate dell'ex obbedio perché Renate dovrà incontrare la Pistoiese, la Lucchese e la Prosesto quindi le tre squadre che in questo momento qui due delle tre squadre Lucchese e Pistoiese che rischiano di retrocedere direttamente è l'unica che può essere agganciata perché secondo me la Prosesto la fine farà pochissimi punti. Va bene allora adesso andiamo a vedere le immagini del Garilli perché dobbiamo parlare dell'ultima partita giocata dalla Lucchese pareggiata come sapete 1 a 1 e voglio subito sentire Massimo su questa partita penso che l'hai vista comunque insomma ti sei informato hai visto gli Alliance che idea ti sei fatto di questo 1 a 1 l'ennesima occasione perduta Massimo di dare un po' di speranza un po' di tono perché insomma poi quando si vince dal martedì lavori meglio è tutta un'altra cosa no? Eh sì mi hai un po' rubato il diciamo la sintesi fondamentale l'ennesima occasione perduta questo sarebbe il titolo sul giornale perché effettivamente andare in vantaggio su una partita del genere è vero che è un po' tardi però insomma come diceva anche Giulio visto visto diciamo non si può mai sapere visto poi anche il calendario delle avversarie e quindi tornare la piacenza con tre punti sarebbe stato alimentare questa fiammella io torno a dire certamente quello che dice Giulio la Pro Sesto il calendario difficile eccetera però guardate che dal punto di vista morale allora se guardiamo la partita con la Pro Sesto possiamo anche guardare la partita con la Pro Patria dove si perdeva 2 a 0 dopo 7 minuti e possiamo guardarne tante altre però contro la Gianna Erminio a Gorgonzola si vinceva 3 a 1 a meno di mezz'ora dalla fine contro la diretta concorrente in trasferta quindi poi addirittura nemmeno pareggiarla perderla ma questo significano non sei punti che tre le hai persi te e tre le hai fatti la Gianna questi sono nove praticamente perché poi queste partite qui incidono sul morale era un'infrasettimanale e ne hai risentito magari anche la partita della domenica perché sono mazzate a livello psicologico che sono clamorose a Piacenza è l'ennesima occasione perché mi sembra che fu detto anche prima della proclamazione del silenzio stampa anche dagli addetti ai lavori dallo stesso Lopez è un po' un cliché visto molte volte la Lucchese quest'anno in trasferta sicuramente si è espressa meglio ha giocato bene all'Ecco ha vinto a Crema contro la Pergolettese che è una squadra che in casa non ha mezze misure è l'unica dalla Serie A alla Serie 5 non ha mai pareggiato però ecco poi ha sciupato moltissimo al Portelise quindi a Piacenza diciamo nulla di nuovo anche perché quest'anno la Lucchese difficilmente riesce a conservare il vantaggio e adesso c'è la speranza di questa partita contro questo Livorno lanciatissimo tra l'altro qui si potrà toccare ferro e quant'altro un Livorno che non vince a Lucca dal 31 ottobre 1976 quindi sono un bel po' di anni fatti i conti non segna a Lucca sua azione dal 1987 gli ultimi risultati gli ultimi tre volte è stato pareggio speriamo che la Lucchese possa vincere questa partita e chiudo dicendoti una cosa mi fa anche abbastanza dispiacere ma qui si entra in altre in altre argomentazioni covid coronavirus la salute che vanno ben oltre il calcio come dicevi giustamente te prima hai usato benissimo quell'avverbio perché poi neanche un po' rimanere con i piedi per terra io mi ricordo ero piccolo forse se lo ricordo anche Giulio che comunque è più giovane di me ma ricordo un Lucchese Livorno il 20 novembre 1977 con 18 mila persone allora non c'erano certe regole c'era anche gente sopra sopra dico sopra la tribuna coperta e domenica vedere due squadre una per ultima una ultima in classifica ovviamente senza pubblico sarà una tristezza in più senti Giulio ma quel 76 e quel 77 di cui parlava Massimo che veramente a livello statistico è una memoria storica è un computer c'eri già o no? perché avevi 10 anni, 11 anni, è nata vero è dal 72 che seguo la ricorda sicuramente e credo che lui si riferisca a quella partita dove fece il gol Marco Piga che era uno dei fratelli Piga, erano due gemelli Mario e Marco uno giocava col 7, uno giocava con l'11 due sardi no se non sbaglio? due sardi due sardi e mi ricordo che un gol lo fece Marco Piga di testa che erano bassissimi erano due anerottoli però lo fece di testa sul cross del fratello Mario quindi era però forse il campionato prima e mi riferisco al 20 novembre 77 stagione 77-78 ah 1-0 gol di Nobile che culminò il secondo posto dietro la Spal e finì 1-0 con gol di Nobile lo ricorderanno con i canoni di età a un quarto d'ora dalla fine, bellissimo tiro nell'angolino 18.000 persone eh ragazzi quelli erano altri tempi senti Massimo volevo chiederti che poi di queste cose con Giulio ne abbiamo parlato spesso secondo te qual è stata la lacuna ora indipendentemente da come finirà e la situazione inutile ribadirlo è ampiamente compromessa qual è stata la lacuna più evidente e parlo di questioni tecnico-tattiche di questa lucchese secondo te c'è chi dice costruita male hai detto prima quasi mai in grado di difendere il vantaggio laddove pure era andata in vantaggio qual è stata secondo te il difetto principale di questa squadra? beh sarebbe troppo facile affidarsi ai numeri se sei benissimo mi piace farlo e quanti gol ha incassato è ovviamente la peggior difesa del girone ma non è la peggiore di tutta la serie C perché c'è anche chi ha fatto peggio come la Cavesi nel girone C ma anche addirittura il Ravenna e il Matelica nel girone B Matelica addirittura a metà classifica ha subito circa 60 gol evidentemente ne ha fatti anche quindi sarebbe troppo facile dire problemi difensivi è chiaro che quando ci sono queste situazioni è un po' l'assemblaggio generale della squadra perché se ci sono problemi se si prendono tanti gol non è detto che sia colpa solamente dei difensori anzi gli allenatori di solito ti dicono che il centrocampo non fa filtro addirittura le punte non ritornano io credo che questa squadra sia stata costruita con un certo obiettivo e poi si sa a volte si indovinano i giocatori a volte un po' meno si è indovinato l'acquisto di questo Bianchi 13 gol e ne parla tutta la serie C avrà sicuramente un grande mercato ovviamente però magari ci si poteva aspettare anche che funzionasse meglio qualche altro acquisto questo senza gettare la croce addosso a nessuno però la Lucchese è sotto gli occhi di tutti ha dovuto anche cambiare ha avuto tanti giocatori a gennaio si diceva poteva puntare su un centrocampista di qualità è arrivato a Zennaro che si è espresso a fasi alterne e quindi secondo me diciamo non è un problema sì tecnico-tattico sul campo ma poi chiaramente sul campo si lavora con il materiale che si ha a disposizione Ho capito senti Giulio prima tu hai rotto sulla partita di Piacenza non so se volevi aggiungere qualcosa per te immagino che al di là dell'ennesima occasione perduta dalla Lucchese è stata per te che insomma alla fine oltre al ruolo qui di Opinion Leader sei soprattutto un grande tifoso è stata l'ennesima delusione Sì perché diciamo la Lucchese quelle poche partite che ha vinto le ha vinte tutte in maniera abbastanza fortunita e anche la partita di sabato sembrava prendere quel canale cioè una squadra che soffre tutto il primo tempo avversari che ti tirano da tutte le parti senza riuscire a fare gol e te che alla prima mezza azione o trovi il golletto o trovi il rigore eccetera eccetera quindi la strada diciamo la dea bendata era stata ancora una volta magnanima nei nostri confronti poi quando io vedo prendere un gol come quello che ha preso la Lucchese a quel punto lì è utile stare a parlare di giocatori di mercato di rinforzi di numeri di partite che mancano di forbici e quant'altro perché quando una squadra a circhi minuti dalla fine marca a zona su un calcio d'angolo in area ci sono quattro difensori di ruolo nessuno salta e salta solo il giocatore del Piacenza secondo me sarebbe stato da prendere tutti e lasciarli a piedi a Piacenza allenatore compreso grande stacco no ti voglio provocare grande stacco di Corbani Giulio grande stacco di Corbani ha fatto Corbani ha fatto un bel gol poi ora te eh metti sotto accusa la difesa lui ha fatto un gran gol Guido se salti da solo fai un gran gol anche te se sei da solo non hai le rigole salti da solo io non lo so forse Stefanini io non lo so la mia condizione non è proprio al top in questo momento e ti dico che sabato sera ho guardato Inter Bologna e Inter l'Inter di Conte è una squadra che stravincerà il campionato ok sull'ultimo assalti del Bologna marcava misto marcava a metà zona e metà uomo siccome noi non è la prima volta che si prende un gol del genere io vorrei capire come si fa a stare schiacciati nell'area piccola con quattro difensori di ruolo a un campo e prendere il gol su calcio d'angolo come in terza categoria perché i gol sul calcio d'angolo li fanno ormai solo in terza categoria come si fa prende un gol su calcio d'angolo con quattro difensori di ruolo in area di rigore ho capito a circa minuti dalla fine dobbiamo andare in pubblicità Giulio poi voglio ripartire con Massimo devo dire Massimo stasera l'ennesima conferma della 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 virtù calcistica di questo opinion leader poi cominciamo a leggere i vostri messaggi perché siete in tanti anche stasera lì nella regia stasera dobbiamo essere precisi nel dare la linea a Marco Cervelli a te Marco 21 e 33 ancora in diretta per la 26esima puntata stagionale di Curvo Overs su questo drammatico momento calcisticamente parlando dei rossoneri veramente a quattro giornate dalla fine sull'orlo di una retrocessione che addirittura potrebbe essere diretta ne parliamo questa sera con il collega Massimo Stefanini giornalista della Nazione di Radio Bruno collegato con noi dal suo studio di Galleno e al centro vedete l'opinion leader Massimo questo opinion leader veramente dimostra conoscenza calcistica non so se se su quel gol di Corbani che uno magari lì per lì dice guarda che grande stacco che ha fatto questo del Piacenza non so tu come l'hai visto mentre poi io comincio a leggere i primi messaggi guarda io sono d'accordo con lui cioè nel senso che poi che abbia che abbia conoscenza calcistica ormai lo sappiamo però cioè credo che abbia ragione cioè ci sono lui era mettato l'Inter di Conte cioè io ti dico ci sono delle squadre che quando vogliono un risultato lo ottengono cioè scalaventando il pallone in tribuna o marcando a uomo stile anni 60 non lo so catenacci o quant'altro specialmente quando c'è un obiettivo da raggiungere quindi sono piuttosto d'accordo con lui allora leggo questo leggo questo primo messaggio che poi è una mail che ci giunge da Paolo Di Massarosa che salutiamo e che ci segue sempre so con grande affetto che dice lui dice aspettavamo tutti con curiosità il signor De Homa in trasmissione però Paolo sai com'è andata insomma è stato dichiarato lo stato del silenzio stampa e quindi insomma adesso fino a fine stagione non parla più nessuno della lucchese a parte come abbiamo sentito il presidente russo lui poi conclude dicendo è il momento di dimostrare che la società è forte capace di prendere decisioni importanti e di programmare un futuro ambizioso a partire dal prossimo campionato di serie D oppure da ripescati in serie C Massimo indipendentemente da come finirà questo campionato tutti quanti abbiamo ancora questa piccola fiammella secondo te ci sono le possibilità di un eventuale ripescaggio poi sappiamo insomma che lì ci sono diverse componenti che giocano un po' sul fatto di essere o meno ripescati anche se noi ancora abbiamo questa piccola fiammella di sperare che la lucchese questa serie C se la tenga sul campo Massimo basta pagare dicevano una volta eh sì e lì ti volevo in ogni caso in ogni caso si è stato ripescato quattro volte il bisceglie che come tradizione ha zero rispetto alla lucchese e con tutto rispetto credo che ci sia la possibilità anche per la lucchese si dimostra ovviamente di avere i requisiti io mi collego a questo dicendo fornandomi uno spunto che mi interessa proprio specialmente l'opinione di Giulio al di là di come andrà questa stagione io temo purtroppo che sarà serie D però ripeto ci sono ancora quattro partite vediamole ma cosa pensi poi che che diranno quei 6 7 voi siete più informati di me io ne conosco alcuni qualcuno diciamo è anche qua della zona della Piana ma quei 6 o 7 imprenditori che hanno diciamo fatto degli investimenti sulla lucchese garantendo l'anno scorso iscrizione mercato nel mercato di gennaio eccetera ecco volevo ma lo chiedo proprio con curiosità volevo sentire l'ottima di Giulio su questo sì certo non saranno contenti Giulio puoi rispondere alla domanda dell'amico Massimo sì ora sai non è che io sono nelle stanze dei bottoni quando si parlano tra imprenditori e chiaramente dirigenti però mi sembra di aver capito già dall'anno scorso che questo qui era un progetto triennale cioè la scorsa stagione quella in corso e la prossima della serie che loro garantivano tutto quello che ha detto Massimo e non fa una piega e chiaramente la lucchese si doveva impegnare a portare avanti il discorso stadio perché è vero che in questa fase i due progetti sono diciamo scollegati almeno al momento nel senso che lo stadio è un progetto immobiliare e va in una direzione la lucchese è un progetto sportivo e purtroppo in questo momento qui va in un'altra però voglio dire sicuramente queste due cose ora sono scollegate ma un bel giorno potrebbero ricollegarsi e io credo che se la lucchese società sarà brava nell'anno a venire quindi diciamo alla fine del 2021 barra primavera 2022 a iniziare lavori come è stato più volte detto anche dall'assessore Raghianti io credo che questi imprenditori saranno oltre che contenti anche a questo punto collegabili al progetto sportivo quindi secondo me se le cose vanno come devono andare poi sai in Italia siamo bravi a rovinare tutte le cose che funzionano per cui questo potrebbe potrebbe essere un caso di quelli però se le cose vanno come devono andare secondo me abbiamo ancora un anno e qualche mese per mettere a posto il progetto il progetto stadio e quindi legare questi imprenditori che poi vorranno mettere in piedi l'operazione e legare questi imprenditori alla lucchese e quindi si torna ancora una volta alla vicenda stadio abbiamo un altro messaggio questo prima di passare a quelli agli sms e whatsapp leggo quelli che ci mandano un mail o ci telefonano l'amico Franco dalla Versilia che ci segue sempre intanto dice tifosi auguro di essere sempre col cuore attaccati ai colori rossoneri poi aggiunge che secondo lui la lucchese di questo campionato si è dimostrata la squadra più debole e comunque poi continua alla fine questa è una società fatta di persone serie che ci tengono alla lucchese e poi vuol fare due domande all'opinion leader adesso risponde l'opinion leader e poi Massimo puoi rispondere sicuramente anche te allora Giulio ti chiede Franco in caso di ripescaggio cioè se la lucchese diciamo sul campo dovesse retrocedere in caso di ripescaggio in serie C quali giocatori salveresti per il prossimo anno se vuoi fare un nome due nomi tre quattro non so quanti ce n'hai fatto salvo quei giocatori che rientreranno alle squadre di proprietà quindi Adamoli all'Empoli Bianchi al Genoa Zennaro eccetera eccetera tutti quelli che rientreranno esclusi quelli io salvo gli stessi giocatori sia che la lucchese venga ripescata sia che la lucchese dovesse ripartire da dilettanti salvo chiaramente Coletta perché è stato un portiere carato grandissime garanzie salvo Meucci perché è un giocatore diciamo di quantità e fra mille difficoltà è stato uno di quelli che la pagnotta se l'è sempre guadagnata salvo Sbrissa perché secondo me è un giocatore che con una preparazione adeguata inizio stagione diciamo e con dei compagni di reparto all'altezza potrebbe rivelarsi un buon giocatore comunque ha fatto la serie B in diversi anni quindi e poi salvo tutti i giovani a partire da Solcia Papini Nannelli Loculto tutti quelli che hanno diciamo debuttato quest'anno in prima squadra che sono stati purtroppo per loro buttati in polà nella mischia e sono cresciuti ma non come avrebbero potuto crescere se la squadra avesse ottenuto altri risultati quindi a conti fatti da 8 a 10 giocatori comunque vada che sia un campionato o l'altro sicuramente c'è una lucchese un po' da ricostruire Massimo vuoi aggiungere qualcosa di diverso secondo te a quello che ha detto Giulio? ma io salverei Coletta salverei puoi parlare di salvezza sono giocatori che se non rimango la lunga avranno altre carriere comunque direi che Coletta Nannelli e Meucci potrebbero essere giocatori utili anche in Serie C i giovani sì d'accordo però poi il campionato in Serie C non perdona niente quindi non lo so ecco comunque questi tre che ti ho detto sicuramente li terrei allora io comincio a leggere i messaggi questo qui lo voglio dire no Massimo con grande sincerità me lo sono conservato da giovedì scorso perché non riuscimmo a leggerlo però qui c'ha una componente calcistica e anche ciclistica perché è il nostro amico Marietto da Valgiano e in mezzo vedrai c'è già chi ride sotto i baffi no? perché Valgiano lo sappiamo è una località non so Massimo se la conosci dove c'è anche una rampa non indifferente no? allora dice i dirigenti di questa società vanno solo e le ogiate a cominciare da Santoro senza di loro saremo spariti noi tifosi dobbiamo essere grati e se dovessimo andare e se dovesse andare male l'anno prossimo sempre con loro e poi si firma perché si era dimenticato di firmarsi scusate sono Marietto e aggiunge post scritto il Castagnolo in bicicletta sul Valgiano non l'ho più visto qui Giulio devi rispondere subito perché Terri ha arrogato il fatto di essere salito 15% 16% di aver staccato Roglic e Pogacar non lo so confermo che le ultime uscite sono state fatte da altre parti sulle colline lucchesi però Valgiano è una località che verrà diciamo il gran primo della montagna di Valgiano verrà verrà fatto più avanti col tempo durante l'estate allora questo invece è France da Borgo a Mozzano buonasera è certo che peccato convinto che col Piacenza saremmo riusciti a vincere c'è qualche errore che Lopez avrebbe trasmesso lo spirito giusto alla squadra tirando fuori gli attributi e sì la maniera per vincere così la salvezza era più vicina beh Francia forse un po' meno lontana ma insomma è così per vabbè però l'è scritto un po' così senza virgole senza punti vabbè Lopez insomma sei molto deluso leggo perché speriamo che non si spenga la fiammella beh Francia chiaramente lo speriamo tutti noi perché fino che la matematica poi c'è l'amico Piero da Lammari che è sempre uno dei primi a mandare i messaggi quindi imparate da lui perché sono i primi che poi troviamo logicamente secondo me fare un silenzio stampa ecco lui parla immagino che tanti messaggi saranno improntati al silenzio stampa fare un silenzio stampa ora fino alla fine del campionato è come nascondersi dietro un dito comunque pensando al futuro la prima cosa da fare è trovare un nuovo ruolo dice lui al signor Deoma vicepresidente quindi lui dice Deoma non più direttore sportivo vicepresidente oppure dirigente accompagnatore e acquistare un DS ma un DS più che acquistarlo forse va ingaggiato va contattato e poi mai una gioia il nostro amico mai una gioia dice salve volevo sapere se era vero che a Livorno gli restituiscono i punti Massimo ti risulta nulla dire che Livorno ha avuto 7 punti di penalizzazione 8 punti di penalizzazione non è previsto nessuna restituzione perché anzi sono state violazioni ormai conclamate quindi assolutamente no già che mi ha chiamato in casa volevo anche precisare una cosa perché poi siamo a Lucca e quindi è sempre bene mettere i puntini su lei il tifoso le diceva che i dirigenti attuali vogliono bene alla Lucchese io questo lo sottoscrivo in pieno e sono d'accordo e ce ne siamo accorti saremmo spariti tutto vero eccetera e quindi nessuno mette in dubbio questo e la gratitudine proprio di queste persone Santoro Deoma Russo eccetera che hanno sicuramente a cuore il bene della Lucchese su questo non ci sono dubbi però io dico che qualche volta bisogna anche mettersi lì ad un tavolo fare dei bilanci e capire se si sono commessi degli errori tutto qua io credo perché questo indubbiamente lo disse due settimane fa Russo l'ha ripetuto Vicky beh questo lo sanno benissimo anche loro che di errori ne sono stati fatti fatti tanti questo penso di sì della conferenza dei servizi ragazzi si sa nulla qui si torna sulla vicenda stadio Giulio ma io chiaramente non lavoro in comune quindi non so non so cosa bolla in pentola posso solo dire che comunque Vicky fu abbastanza preciso dicendo che comunque era slittata alle settimane dopo Pasqua quindi diciamo a breve dovrebbe essere questa benedetta conferenza dei servizi in linea generale Massimo l'abbiamo detto anche prima non è che sia una grande stagione al di là della Lucchese e del Livorno e della Pistoese in generale tu hai detto anche l'Arezzo nell'altro giorno per il calcio toscano ma potremmo partire dalla Serie A dalla Fiorentina in giù mi pare che ci siano più dolori che gioie a livello calcistico c'è questo amico Davide che ci dice buonasera scrivo dalla provincia di Pisa ma sono spesso a Lucca per lavoro fa tristezza vedere tante Toscane a rischio serie D quando anni fa la C pareva un girone regionale in bocca al lupo per la prossima partita io ti ferò sicuramente Lucchese un saluto Davide è una crisi secondo te che ha radici più profonde Massimo questa del calcio toscano e dobbiamo quindi aspettarci altri anni difficili o pensi che sia soltanto un'annata un po' così guarda ti rispondo in maniera molto semplice il calcio toscano è in crisi nelle piazze in cui mancano diciamo i corsi come c'è il presidente dell'Empoli che mantiene una cittadina di 25 mila abitanti tra A e B da 20 anni o 25 non lo so oppure magari manca un imprenditore come Corrado a Pisa anzi a Pisa forse arrivano anche i russi quindi perciò sai adesso il calcio è cambiato rispetto a una volta dove c'erano presidenti che investivano per 20 anni di fila e quindi il calcio toscano risente del diciamo così non vorrei usare parole troppo difficili ma insomma un po' anche della situazione socio-economica della Toscana stessa e del paese di riflesso quindi lasciando perdere la Fiorentina che ha un grande imprenditore alla guida ma poi lì scattano altri discorsi insomma cioè la Serie A è un mondo veramente a parte però l'Empoli sta facendo molto bene il Pisa a metà classifica in Serie B fino a qualche settimana fa aveva anche ambizioni di entrare nei playoff non è ancora tramontata questa idea anche se è difficile invece a livello di Serie C hanno fatto bene delle società dove si programma tutti gli anni valorizzando i giovani vedi il ponte d'era e cercando di fare le cose secondo il passo secondo la gamba perché poi si parla di Lucchese Pistoese e Livorno perché hanno un grande nome ma io vorrei ricordare anche in questa annata piuttosto disgraziata per le Toscane che la Carrarese che l'anno scorso ha sfiorato la Serie B semifinale playoff contro il Bari e a 40 punti se non ci sarà la forbice si salverà appunto per la forbice ma altrimenti è un punto dal quinto ultimo posto quindi ed è una partita con ben altri propositi io devo salutare Giulio dobbiamo salutare perché per la Serie perché abbiamo anche l'angolino c'è posta per te no Giulio dobbiamo salutare l'amico grande tifoso della Lucchese Renzo Francesconi leggo velocemente stasera Renzo sei stato un po' più sintetico sono un vecchio tifoso della Gradinata che dopo aver visto Piacenza Lucchese facciamo rivedere Marco qualche immagine non so fino a che punto le vede volentieri Renzo sono sconcertato di vedere una squadra che non lotta con il cuore e non tira fuori dal primo minuto non tira fuori gli attributi dal primo minuto finché l'arbitro non fischia la fine non dimostra una cattiveria agonistica e purtroppo di queste partite quest'anno se ne sono viste tante e di conseguenza dice vediamo la classifica questa società che c'è ora ha tolto la Lucchese da un fallimento e ne sono grato però penso dall'estate prossima dice Renzo che hanno commesso dall'estate scorsa hanno commesso molti errori e spero che questi servano che siano di insegnamento per il prossimo campionato ho sempre saputo conclude che la Serie D ha preso il posto della vecchia C2 e rare umano sempre forza Lucca Renzo Francesconi ma ce lo racconti in 20 secondi ancora questo signore Giulio tu che insomma lo conosci che fai da insomma un po' da postino nei suoi confronti è un grandissimo tifoso con il quale ho fatto anche tante trasferte negli anni 80 eccetera eccetera era di San Concordio faceva parte del club di San Concordio diciamo da qualche anno si è un po' allontanato per tutte le vicissitudini diciamo che ha passato la Lucchese soprattutto fallimenti è un peccato perché di tifosi come lui ce ne vorrebbero migliaia sulle gradinate perché così come me ma anche quelli più grandi di me hanno un po' addosso la storia del tipo Lucchese e la storia della Lucchese stessa quindi invito Renzo a tornare il prossimo anno allo stadio lo sai Giulio che è qui adesso voglio coinvolgere anche Massimo lo sai che insomma abbiamo tanti critici tante critiche nei nostri confronti e noi le accettiamo finché sono leali sportive costruttive corrette senza offendere nessuno perché noi non abbiamo offeso nessuno in dieci anni che facciamo questa trasmissione lo sai Giulio che abbiamo un nuovo fan dei nostri è Dario D'Auzzano io ti leggo questo messaggio che io prendo naturalmente con un grande sorriso e lo saluto anzi dice Dario mentre qui il telefonino fra un po' mi va via a forza di frillare dice Dario pensavo che stasera non andavate in onda perché la lucchese ha ordinato il silenzio stampa e voi solitamente siete loro portavoce poi aggiunge fai un paragone che vale veramente mi fa sorridere perché io ho tanti difetti caro Dario ma se io sono su una nave sono il capitano stai tranquillo che prima di me scendono tutti e chi mi conosce sa che sono così scendono tutti gli ospiti scende tutto il personale scendono i cuochi i camerieri anche i topi che sono sulla nave e io resto sulla nave forse non mi conosci Dario perché poi aggiungi se Schettino avesse avuto voi come avvocati ci avreste raccontato che la Concordia è stata bombardata dall'isola Dario Dauzzano io Dario ti saluto ti ringrazio perché ci segui sempre naturalmente hai le tue idee noi ci mancherebbe altro le rispettiamo poi ripeto non devo aggiungere altro non so visto che è coinvolto in questo discorso anche Giulio se vuole aggiungere qualcosa a lui o andiamo avanti Giulio Dico solo a Dario Dauzzano di tenermi buono perlomeno a me perché se no non annetto Uzzano alla provincia di Lucca ah ecco no Massimo perché noi tu che possiamo tornare su Massimo Stefanini perché Massimo Stefanini stasera dietro nel suo studio ora è un po' stretto c'hai una cartina geografica con tutto il globo terraqueo che avevo anche detto all'opinione leader che si preparasse per qualche domanda di geografia ma mi sa che non sai che Castagnoli vuole annettere essendo il governatore no il gonfaloniere il gonfaloniere Francesco Burlamacchi vuole annettere Pescia Uzzano e poi cos'altro Pescia e Uzzano alla provincia di Lucca ma non si vede alla Repubblica di Lucca Pescia era già in provincia di Lucca c'era anche Montecatini quindi Giulio vuole ripristinare la geografia di un tempo ma non province voglio annettere alla Repubblica di Lucca che ricostituiremo Uzzano e Pescia poi so che è una mezza idea anche per Cascina sì ma perché c'è il club con Leo presidente c'è il tuo amico Leo no vabbè c'è il mio amico Leo presidente quindi anche Cascina Nessa no Massimo nonostante tutto abbiamo sempre una buona cera come vedi quindi vabbè certo certo dice l'amico Claudio da Farneta buonasera mancano solo 4 partite la Lucchese deve giocare alla morte ora pensiamo a mangiare il Livorno la Pistoiese perderà qui fa pronostici Claudio e noi saliremo in classifica e poi aggiunge e per caso sarà serie di pace io come tifoso vero non mi lamento la società farà uno squadrone e ritornerà in serie C mamma mia fossero tutti come Claudio forse saremo tutti un po' più sereni però capisco che ognuno siamo in 7 miliardi nel mondo quanti siamo? e siamo 7 miliardi di persone diverse no? Livorno 19 campionati di serie A ecco qui chi lo diceva di 20 Massimo l'avevi detto te 20 campionati sì sì ho detto più di 20 non mi ricordavo quindi ecco 19 il Livorno 9 la Lucchese 1 la Pistoiese fate un po' il conto ci dicono 19 il Livorno due volte vice campione d'Italia una volta terzo 8 partite in Coppa UEFA la Lucchese ci dicono io non so se sono dati corretti ma 8 volte 8 tornei di serie A e una volta la Pistoiese quindi 19-8-27 1-28 e poi aggiunge questo amico Cero sì al 31 ottobre 76 1-0 per il Livorno Autorete di Cisco l'anno dopo 19 novembre 77 oh fa tutte le date palo di Vitulano e gol vincente per la Lucchese lo leggo tutto di Nobile di Nobile al 34esimo del secondo tempo è Fabrizio da Castagneto Carducci quindi non siamo neanche correttissimo preparatissimo eh Massimo sì 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 annetto anche Castagneto annetto anche Castagneto ora ora mi mi sembri tipo ascolta ora mi sembri perché Massimo è preparatissimo anche sulle vicende geopolitiche mi sembri tipo quelli che vogliono portare la democrazia nel mondo comincia ad annetterti a destra Massimo ha capito di chi parlo comincia ad annetterti a destra eh no insomma qualcuno ti potrebbe dire tanto pensa a salvarti poi dopo comincia ad annettere certo ma sono sono due progetti che camminano parallelamente la Repubblica di Lucca è una cosa e il calcio è un'altra che ci incastra Olinto Olinto che dice amici Monaco avrebbe fatto meglio ora magari voglio sentirvi perché poi poi sono cose difficili impossibili da dire queste la società non avendo soldi si è affidata se però arrivano i messaggi poi mi sparisce il vediamo un po' la società si è affidata a giocatori gratuiti svincolati o a quelli sponsorizzati quindi cosa dobbiamo cosa dobbiamo aspettarci grande opinion leader ah cosa dobbiamo aspettarci ma aspettarci non ce l'ha messo lo dico io grande opinion leader l'unico a dire quello che pensa senza paura a differenza della stampa tutta senti che complimento che ti fa veramente complimenti Castagnoli hai la mia stima Olinto intanto dovresti ringraziare Olinto perché infatti lo sto ringraziando però è come dice lui che la lucchese non ha soldi che ha fatto cioè la lucchese secondo me alla fine poi i giocatori vanno pagati qualcosa anche investito la lucchese ha fatto degli errori di valutazione durante l'estate scorsa quando pensava di avere una squadra diciamo forte per la serie D in realtà non eravamo forti neanche in serie D anche se siamo anche se la classifica fu cristallizzata la lucchese è la prima classifica Giulio Giulio ti devo interrompere qui perché è tassativo devo dare la linea alla ricerca ripartiamo da qui sentendo sentendo anche Massimo che congederemo al prossimo blocco lì nella regia 22.02 allora riparto da Massimo Stefanini Massimo guarda ancora un quarto d'ora poi ti liberiamo va bene? alla fine del prossimo blocco ti congediamo come si faceva una volta quando si faceva il militare di leva allora intanto ci dicono questo messaggio che ci manda Sauro Davagli salutiamo anche tutti gli amici della Garfagnana e dell'Alta Garfagnana dice in serie di chi sarà il mister lui dice lui fa un nome Bangioni attuale tecnico del Seravezza salutiamo anche Sauro Davagli siete veramente tantissimi ho fiducia nel gruppo e nel progetto questo forse il vero mai una gioia che ci manda questo messaggio comincio a leggere ho letto soltanto gli sms finora comincio a leggere i whatsapp ma devo dire che parto dal primi perché giustamente chi ha chiamato prima è giusto che abbia la precedenza allora buonasera complimenti per la trasmissione volevo dire che la lucchese potrà avere un futuro dignitoso permanenza tranquilla in Lega Pro solo investendo con contatto pluriennale in un direttore sportivo che abbia un curriculum professionale importante e questo è Nicola buonasera sono Claudio ma veramente qualcuno pensava qualcuno veramente credeva che Deoma sarebbe venuto in trasmissione e poi da inizio anno non era soltanto pochissimo a considerare una squadra scarsa però quando scrivete messaggi scrivete con criterio altrimenti non si capisce giovedì scorso è stato detto così poi è cambiato che è stato attuato il silenzio stampa però insomma io processo alle intenzioni non li farei buonasera a tutti sono Mirko vorrei un vostro parere su questo silenzio stampa proprio quando doveva finire doveva venire l'artefice del disastro Deoma e poi un parere sulle parole di Russo che ha detto retrocedere senza spareggi sarebbe stagione fallimentare forza forza Pantera allora vabbè su Deoma ve l'abbiamo già detto all'inizio e sul silenzio stampa si sono espressi sia Massimo che Giulio Castagnoli invece sulle parole di Russo Massimo beh insomma retrocedere senza spareggi sarebbe una stagione fallimentare mi sembra abbastanza la pallissiana la cosa no? secondo te nel senso se uno retrocede senza fare oltretutto senza nemmeno giocarsi dagli spareggi ci siamo salvati con 25 punti di penalizzazione un paio di stagioni fa a bisceglie che poi non servì ma passare invece da una retrocessione senza nemmeno fare gli spareggi ci credo che sarebbe da considerare una stagione fallimentare buonasera due domande per il Castagnoli Giulio tocca a te in che posizione di classifica metterebbe la squadra in serie D questa però forse è Graziano da Capannori forse vuol chiedere cioè se la Lucchese questa Lucchese qui fosse in serie D forse intendo quello io Giulio ma ovviamente avrebbe difficoltà a stare nelle prime posizioni di classifica ma questo non te lo dico perché la Lucchese virtualmente è ultima a classifica perché senza la penalizzazione del Livorno la Lucchese sarebbe ultima te lo dico perché la maggior parte delle squadre che vengono su dalla serie D e vanno in serie C fanno con la stessa interagliatura di squadra fanno dei campionati in medio alta classifica quindi se come la Lucchese è ultima probabilmente avrebbe difficoltà a stare nei quartieri alti di classifica anche in serie D poi ti chiede sempre per la classifica quanto hanno inciso gli arbitraggi secondo te gli arbitraggi hanno inciso poco se si deve cercare qualcosa che ha inciso sicuramente è stato il Covid ma non lo diciamo più perché se no diventa un alibi però gli arbitraggi no gli arbitraggi poco o nulla gli arbitraggi ti hanno tolto qualcosa ma poi ti hanno ridato qualcosa perché anche i rigori di domenica non lo so quanti quanti arbitri darebbero un rigore come quello di Piacenza ma ce ne sono stati altri oggi e Buca fa pari in fondo al campionato poi comunque Graziano aggiunge questo vale per me Massimo ma vale anche per te perché lui dice noi comunque Casotti ci consoleremo con l'Inter di questi tempi non è poco ciao Graziano da Capannori vabbè ora non apriamo capitoli sul Liter perché stamani ero molto arrabbiato però qui parliamo di Lucchese buonasera Guido e Giulio volevo un vostro parere sul fatto di avere annunciato il silenzio stampa due giorni prima della presenza del direttore sportivo di Oma la vostra trasmissione però non ci potete dare attenzione la responsabilità che la Lucchese abbia fatto il silenzio stampa per noi per colpa nostra Giulio posso intervenire perché così almeno la smettiamo con questi messaggi allora io personalmente ma anche Guido Casotti abbiamo sentito Daniele De Oma all'inizio della settimana e Daniele De Oma sarebbe venuto tranquillamente anzi a me personalmente ha detto che avrebbe voluto stare in collegamento per tutte e due le ore e anche di tutti si era già informato anche per sapere se il buono Abramo avrebbe resistito per un collegamento di due ore quindi non sono l'avvocato di De Oma però mi sento di dire per giustizia che Daniele De Oma sarebbe venuto ben volentieri sapendo benissimo che sarebbe stato diciamo buttato nella gabbia dei leoni perché comunque è ovvio che la presenza di De Oma avrebbe comunque scatenato un po' la tifoseria come è anche normale in un contesto del genere però mi sento di dirlo perché altrimenti sembra che la Lucchese sia entrata in silenzio stampa perché qui ci sarebbe dovuto essere De Oma e invece non è così no no appunto hai fatto bene a dirlo sì sì confermo tutto poi è Daniele Mennucci dice secondo me la società ha perso un'occasione per poter fare un po' di chiarezza ti abbiamo Daniele ti abbiamo risposto sicuramente non hai dipeso da noi e De Oma ti ha spiegato tutto Giulio poi allora qui parlano del settore giovanile il lavoro di Simone Angeli che ricordiamo tutti come valido esterno anche della Lucchese di Vito Graziani e Massimo Valienzi con il settore giovanile stanno facendo un buon lavoro non so Massimo tu che conoscenza hai del settore giovanile al di là della prima squadra è chiaro che però siamo di fronte qui a a un settore veramente dove sono ripartiti proprio dalle dalle macerie eh dalle ceneri sì sì no lo dico visto che domani è il 9 aprile sono 12 anni dal terremoto dell'Aquila se non ricordo male sì no no il settore giovanile la Lucchese è stato ma più volte mi sembra di ricordare rifondato quindi eh certo l'ideale sarebbe quello di tornare ai tempi del professor Bianchi però insomma ormai eh quelli sono tempi tempi andati allora eh Giulio e anche Massimo hanno già risposto da quali eh giocatori ricomincerebbero il prossimo anno e poi eh questo amico che non si firma dice dalle giovanili riusciremo a tirar su qualche buon prospetto bene appena parlato Massimo tipo i Masini Romanelli Magnani Lenzini per il prossimo anno c'è questo ragazzo che dalla settimana scorsa era già in panchina anche a Piacenza aiutami Massimo mi sfugge il nome Durante Durante ecco bravo Giulio Durante eh ce n'ha parlato ce n'hanno parlato anche ce ne parlò anche Carruezzo no? quando fu nostro ospite pare che sia molto bravo però parliamo di ragazzi molto giovani non è che eh ciao Guido sono Diego da Santa Maria Colle consentimi alcune riflessioni su cui vorrei la tua opinione e quella dell'opinion leader De Homa è da mesi che non si vede sono presentati tutti da te in studio Russo più volte Vicky Lopez giocatori lui no però forse hai mandato questo messaggio poi Giulio ti ha spiegato che se fosse di peso da De Homa stasera era qui ci stava due ore due ore e mezzo tre ore ci facevamo le ore piccole veramente no credetemi ho parlato anche io con De Homa e confermo in toto quello che ha detto Giulio Castagnoli eppure io credo che il maggiore responsabile di quella che definire rosa sarebbe un azzardo una cozzaglia di giocatori affastellati beh io faccio un esempio no Giulio l'abbiamo fatto più di una volta certe volte i giocatori se si trovano in un determinato contesto in una determinata stagione probabilmente vengono se non hanno siccome non siamo di fronte a dei fenomeni in queste categorie rischiano di essere travolti no abbiamo fatto in tempi non sospetti il nome di Gargiulo ad esempio no o di altri quindi non è detto secondo me poi voglio sentire sia Giulio vi prego di essere sintetici che Massimo non è detto che in questa lucchese al di là di bianchi che tutti quanti riconosciamo dovrebbe avere un futuro luminoso non vi siano altri elementi anche giovani che potranno fare anche una buona carriera perché se li giudichiamo da questa stagione basta mi sembra un po' riduttivo Giulio velocemente e poi anche Massimo hai letto benissimo io ho già avuto modo di dirlo anche qualche puntata fa la lucchese secondo me ha 4, 5, 6 elementi che in un breve periodo di tempo a medio breve periodo di tempo secondo me potrebbero spiccare il volo per categorie anche superiori e non me lo rimangio perché i giovani ripeto sono stati fatti crescere in una stagione disgraziata mentre avranno bisogno di crescere in una stagione tranquilla Massimo Massimo io mi ricordo Gabbia della lucchese difensore l'ho rivisto in una partita di Europa League con il Milan e ti dico che nella rosa di quest'anno secondo me c'è un giocatore tale Adamoli di cui sentiremo parlare sempre Diego adesso leggo Diego non posso leggere tutto il messaggio perché è lungo però questa parte te la leggo volentieri vuol fare un augurio speciale oggi compie 69 anni Marino Chioccatti spero di aver letto bene il nome no Cioccatti forse storico albergatore tifosissimo della lucchese di cui per decenni ha ospitato i ritiri per le gare casalinga l'un abbraccio con la speranza di tornare presto allo stadio insieme questa naturalmente è la speranza è la speranza di tutti noi qui c'è uno che fa una battuta senza firmarsi ma noi le accettiamo Casotti la cravatta sembra un fumogeno della Pistoiese vabbè vabbè poi ciao a tutti un saluto a Giulio vorrei dire che lavoro a Pisa e dopo 4 anni di delusione e fallimenti non ne posso più di dover mandare giù sempre prese in giro vabbè si può dire prese di culo a quest'ora Castagnoli sì tu l'altra settimana mi hanno rimbrottato perché è usato anche altre espressioni che insomma vabbè prese di culo da parte dei pisani basta questo è Luigi è Luigi da Lucca poi domenica con Livorno vogliamo 11 Pantera in campo anche in panchina iniziando dal mister che diano tutto con grinta e cuore per 90 minuti forza Pantera questo è Luca dalla gradinata anche stasera siete tantissimi buonasera e complimenti al conduttore quello con la cravatta fumogeno della Pistoiese e agli opinionisti quindi Massimo sarebbe anche ma Massimo è un grande giornalista questo lo dico io è un eccellente radiocronista come purtroppo in giro ce ne sono più pochi Massimo lo devo dire perché sai che io sono nato come radiocronista quindi ma vedi che quando arrivano i messaggi parlano solo di Giulio ma è normale io vengo qui una volta ogni tanto e sono uno sconosciuto è più ufficialmente esatto come volto proprio perché nasco come radiocronista e si sa i radiocronisti una volta non si sapeva mica come era fatto Sandro Ciotti per dire quindi siamo stati anni siamo stati anni ad aspettare che volto avrà questo Sandro Ciotti che sentivamo questa voce rauca così beh lì parliamo veramente di un grandissimo era un grandissimo il mito Sandro Ciotti era penso che quelli della nostra età hanno tutti un pizzico qualcosina imparato da lui comunque quest'amico continua e dice vi seguo spesso e volevo dire al tifoso che si augurerebbe di giocare sempre contro il Pontedera ma non lo so chi l'ha detto questo che una volta per noi giocare contro squadre come la Lucchese era un onore poi è diventato una consuetudine e ora invece va a finire che con la Lucchese non si giocherà più per colpa vostra vi auguro vi saluto forza Granata beh questo è un tifoso del Pontedera immagino credo che qualche tifoso sia stato veramente irrispettoso nei confronti della nuova società ricorda questi signori se si ricordano dove erano il primo agosto 2019 ciao Massimo un grande saluto dal Castello questo è per te Massimo che tempi Roberto da Castelnuovo un grazie a Guido e Giulio questo è il nostro amico Roberto Boschi te lo ricorderai lo saluto lo saluto anche io il Castello buonasera Guido pensi ancora che ci salveremo io cerco di ragazzi io cerco di professare in questo momento è così insomma difficile questo momento è più di un anno ogni tanto cerco di professare anche un po' d'ottimismo poi anche io non sono sempre ottimista io non ho mai detto che la Lucchese si salvava sicuramente o si sarebbe salvata però non posso ancora dire che sia sicuramente retrocessa anche se purtroppo eravate gli ultimi due fino ad un mese fa poi si è rimasto solo l'altro chi era? eri te o poi non leader forse? direi che è l'ora che tu ti svegli anche te e vabbè spero che dopo il problema amico è che dormo poco ormai perché ho una certa età spero che dopo la matematica la società indica una conferenza stampa annunci la fine del rapporto con Deoma e tutto lo staff tecnico vende ai giocatori che hanno deluso e riparta con dei veri professionisti perché la di sarà molto dura e da programmare subito e per bene solo con un grande cambiamento di rotta risorgeremo saluti dai Turelli gruppo vabbè poi noi adesso ne parliamo ancora c'è un minuto e mezzo voglio prima di salutarlo però concludere con Massimo Massimo due parole sul Lucchese Livorno che partita ti aspetti ho letto con piacere stasera dall'amico Diego Checchi che segue da vicino tutte le vicende della Lucchese che Nannelli pare aver subito insomma recuperato c'era stato un po' d'allarme Massimo è saltato è saltato volevamo salutarlo niente purtroppo salta qui il collegamento non so se poi magari torna in tempo per abbiamo 50 secondi vabbè noi Giulio poi chiaramente del eri te l'altro secondo te eri te l'altro che fino a un mese fa pensava che la Lucchese si sarebbe salvata penso parlava di te che dici Giulio? Penso di sì penso di sì perché anch'io chiaramente come tutti i tifosi e come dicevi giustamente te prima Guido la partita diciamo prima della partita con Novara sembrava che la Lucchese avesse trovato quell'assetto scusa Giulio Giulio tanto noi proseguiamo dopo è tornato Massimo proprio 20 secondi per salutarlo Massimo sì no dicevo che praticamente è un Livorno che arriva dei risultati importanti contro la Provercelli contro la Pistoiese non sarà semplice però la Lucchese insomma deve dare tutto deve cercare almeno di alimentare questa flebile speranza Massimo è stato un piacere come sempre ti ringrazio e ti auguro una buona serata grazie a voi grazie a te Massimo buona serata ciao Massimo ciao a tutti ciao a presto a presto ciao bene allora abbiamo congedato Massimo Stefanini il collega Massimo Stefanini noi andiamo in pubblicità quando torniamo Giulio possiamo dire che comincia lo spettacolo no scherzo siete tantissimi però che eravamo anche avvocati non lo sapevo stasera ho scoperto che siamo anche avvocati di Schettino pensate un po' linea alla regia 22 21 e 50 secondi ancora in diretta dagli studi di Curvo Ovest abbiamo salutato Massimo Stefanini collega della Nazione e di Radio Bruno è stato un grande piacere averlo con noi perché Massimo che personalmente conosco da tanti anni è veramente un ragazzo un giornalista competente mi devi un caffè Massimo per il ragazzo con noi c'è l'opinion leader che insomma ormai è un nostro compagno è un grande amico di viaggio da oltre dieci anni ora Giulio ci divertiamo ora ci divertiamo un po' sei pronto? allora intanto c'è questo messaggio di Riccardo che a me mi piace più la seconda parte e anche se nella prima poi ci fa i complimenti perché dice Guida e Giulio complimenti per il vostro modo di condurre la trasmissione poi aggiunge quando non hai un presidente che può investire un settore giovanile importante i risultati sono questi la programmazione è fondamentale e poi aggiunge va detto che le polemiche ora sono fini a se stesse a meno che questa è la parte che mi piace qualcuno non conosca qualche lucchese nel mondo che ha fatto fortuna e venga ad investire nella sua città c'è molta verità in quest'ultima non a parte i complimenti in quest'ultimo paragrafo del messaggio di Riccardo non so Giulio se vuoi dire qualcosa sì io continuo a pensare positivo nel senso che secondo me lo snodo dello stadio è fondamentale in quel caso ci sarebbero imprenditori lucchesi che comunque sia direttamente o indirettamente o indirettamente verrebbero coinvolti quindi potrebbe essere quello lo snodo per avvicinare l'imprenditore alla lucchese allora qui scrivono la cascina attenzione perché ora qui sei coinvolto te vi prego distinguiamo il club cascina forza lucca da leo tu gli puoi fare la testa dell'onoraria dice che di lucchese non è niente ora una domanda ma una volta che ci sarà il nuovo impianto siamo sicuri che riusciremo senza un grande socio ad autofinanziarci per arrivare almeno in serie B scusa Ale da cascina tifosissimo della lucchese lucchese doc nato in piazza questo è Ale non Leo pratica Ale ti chiede basta lo stadio per poi se poi non arriva qualcuno che c'è anche qualche soldino Giulio lo so però qui chiaramente è un po' è un po' il discorso c'è nato prima l'uovo o la gallina è chiaro che è chiaro che con lo stadio è matematicamente certo che si avvicinerebbe qualcuno e quindi le due cose sono diciamo strettamente legate qui c'è un altro messaggio di Paolo da Lucchia che ti coinvolge sempre Giulio che dice perché il Livorno che ha una società che non esiste giocatori raccattati e non pagati dice proprio così ma lottano come leoni perché ciao Paolo da Lucca beh questa domanda ti potrebbe rispondere quel che fece la lucchese due anni fa Giulio comunque rispondi te è chiaro che tra i vari tra i vari errori che sono stati commessi è stato commesso anche quello di non dare una personalità a questa squadra cioè questa squadra qui è carente di personalità e non me ne voglia anche nel suo allenatore perché non è riuscito anzi nei suoi allenatori perché non sono riusciti nessuno dei due a così a imprimere un'anima a questa squadra questa squadra che è una squadra che dalla prima di campionato è senza anima è senza un gioco è senza quella cattiveria agonistica che è fondamentale in questi campionati non ha fisicità e quindi di conseguenza veniamo presi a schiaffi un po' a destra e un po' a sinistra tu Giulio hai sempre detto io sono soprattutto al di là del ruolo che assolvo a Curvo Ovest ormai da dieci anni sono soprattutto un tifoso e aggiungo io un grande questo l'aggiungo io un grande tifoso della Lucchese voglio sapere poi alla fine quando ho letto questo messaggio quanto concordo in percentuale con quanto dice questo questo nostro amico che non si firma dice volevo ricordare a tutti i tifosi della Lucchese che Ultras si nasce e si muore poi volevo ricordare a tutti i dirigenti o presunti tali che non esistono bandiere unica bandiera sono quelle sventolate dai tifosi vecchi o attuali e ricordo che l'unico che ha diritto a stare al Porta Elisa è il magazziniere poi qui purtroppo quando scrivono spesso gli attuali dirigenti aggiunge sono ospiti del Porta Elisa e che gli interessa però vedete se scrivete così poi i tifosi restano gli altri non sono niente qui mi sembra di rivedere il film quello di Sordi il Marchese del Grillo vabbè questi oltre a non capirci niente aggiunge sono anche presuntuosi bastava solo dire abbiamo sbagliato tutto Lucca non dimentica beh ora è un po' confuso non è scritto sempre nel modo giusto però insomma la sostanza l'hai un po' capita Giulio no? Sì sì quando parla del tifoso magazziniere parla chiaramente di un tifoso storico della Lucchese che è il famoso scimmiato e per il resto è chiaro diciamo che il tifoso chiaramente dice che Ultras si nasce e si muore della serie la famosa mentalità Ultras che io personalmente ho abbandonato qualche anno fa sono stato Ultras anche io ho fatto le mie brave cose fatte bene fatte un po' meno bene negli anni 80 poi però a un certo punto io non ho la mentalità Ultras quindi sono cambiato sono andato ingradinata a vedere la serie B quasi tutta sono tornato in curva negli anni della Triestina perché mi piaceva il tifo che faceva la curva quindi andavo volentieri a dare una mano dopodiché sono tornato in ingradinata e a questo punto e vista anche l'età che avanza mi viene consigliata addirittura una coppetta perché almeno quando piove mi riparo Allora questo dice sono l'unico alienato non allenato alienato che continua a parlare del campionato e dunque lo ripeto uno la Lucchese ha il dovere di provare a mettere dietro la Pistoiese e questo sinceramente amico che non ti firmi lo sto dicendo anch'io da no anzi si firma si firma si firma lo sto dicendo anch'io da qualche settimana poi ma soprattutto al dovere di non farsi riprendere da Livorno poi due la Carrarese non è salva l'avete presente il calendario saluti Massimo non so se Massimo da Pisa non lo so sinceramente non lo so post-critum dite Toscane se volete ma non del Gran Ducato Lucchese Carrara con il Gran Ducato non ci incastrano nulla forse non è Massimo da Pisa però beh qui sei d'accordo che tu famoso gonfaloniere insomma eh ascolta seriamente per il discorso salvezza la Carrarese nonostante che sia crisi nera è fuori è fuori ho visto il calendario la Carrarese eh deve andare a giocare all'Effe domenica prossima con l'Albino l'Effe poi avrà la Lucchese in casa incontrerà la Juvent aspetta e l'ultima partita eh diciamo la giocherà contro la Provercelli ho fatto una proiezione la Carrarese dovrebbe andare intorno ai 45 punti 46 quindi la Carrarese secondo me è salva è la Pro Sesto che eh dovendo affrontare Alessandria Grosseto Renate e Livorno secondo me è quella che rischia più di tutti anche e soprattutto perché insomma è stata abbastanza colpita dal covid e quindi come tutti sappiamo il covid lascia degli strascichi che sono eh diciamo nel tempo continuano continuano a persistere nonostante le diverse settimane che sono passate da quando un giocatore è positivo però purtroppo è questo e la Pro Sesto secondo me non arriverà più di 41 42 punti e vedremo se e vedremo se basteranno no Giulio però volevo no però volevo adesso stiamo vedendo la classifica però adesso volevo invece eh tornare in un studio e prima di leggere il prossimo messaggio ma non per smentire siamo gli avvocati della Lucchese che insomma facciamo il portavoce della Lucchese proprio per dimostrarti amico che non è così l'amico era Dario D'Auzano ti dico una cosa ma e lo chiedo anche a Giulio Giulio ma siccome proprio giovedì scorso ci fu detto che sarebbe uscito uno studio non della Lucchese no? un studio medico scientifico che dimostrava tutte le conseguenze che il covid ha sugli atleti cioè chiaro soprattutto sugli atleti che svolgono un'attività professionistica no? sulle loro prestazioni questo studio è uscito ti risulta io non ho sentito niente o ancora no no onestamente onestamente non ho sentito niente nemmeno io però io lo aspetto ma io Giulio ma io lo aspetto io lo aspetto io lo aspetto perché non sono convinto che sia così comunque magari mi sbaglio magari mi sbaglio allora buonasera da Tiziano questa Giulio Bellina ascolta una domanda per cortesia per Opinion Leader dice questo silenzio stampa questo non l'aveva ancora detto nessuno stasera mi preoccupa molto non c'è mica il pericolo che la Lucchese si ritrovi senza società il prossimo anno Giulio rispondiamo a questa prima preoccupazione di Tiziano no mi sento mi sento di tranquillizzarti Tiziano perché comunque Bruno Russo non più tardi di due settimane fa ha riconfermato per l'ennesima volta che il progetto a prescindere da come finirà questo torneo andrà avanti andrà avanti perché comunque lo ribadisco per l'ennesima volta è anch'esso legato al famoso discorso stadio siccome questa volta sembra che ci siano tutti gli ingredienti affinché l'operazione vada in porto o quantomeno siamo in stato abbastanza avanzato per cui credo che assolutamente non ci sia un problema di questo genere qui poi aggiunge Tiziano oppure questo silenzio è dovuto quindi lui dice vabbè ti chiedeva alla società tu gli dici è tutto a posto e allora lui dice oppure questo silenzio è dovuto alle offese personali ricevute dai dirigenti da molti che lui definisce intelligentoni che si ritengono tifosi ciao a tutti e da lucchese sempre che sia in B o C in terza categoria è forza lucchese va bene quindi può essere quest'altra ipotesi penso che sia per quel motivo lì sicuramente l'ho detto un'apertura dispiace perché onestamente anch'io sono sono e sono stato critico con la lucchese ma ma critico la lucchese diciamo a livello professionale cioè non vado sul personale dicendo che Tizio Caio Sempronio a Tizio Caio Sempronio le peggio cose posso dire che hanno sbagliato posso dire che sono stati incompetenti posso dire che hanno sbagliato due allenatori su due posso dire che hanno sbagliato diversi giocatori posso dire tutto quello che riguarda però la sfera professionale non la sfera personale assolutamente no e allora Giulio però hai detto hanno sbagliato due allenatori su due c'è chi non è d'accordo con te questo amico che non si firma dice società mediocre e giocatori scarsi ma non si può dare la colpa a Lopez perché è il solito allenatore che ci ha portato 7000 persone con il Parma e guardate quella formazione rispetto a questa cosa gli rispondi? rispondo che in quella formazione c'erano giocatori come Dermacu Bruccini Fanucchi e mi fermo a loro tre senza dire Capuano Ciro Capuano e altri perché poi non li ricordo nemmeno tutti era una squadra con quattro giocatori di quel calibro lì e come la vedo io tra le altre cose uno in difesa anzi due in difesa Capuano e Dermacu uno a centrocampo che era Bruccini e un attacco che era Fanucchi che voglio dire se li avevi quest'anno andavi nei playoff ben dato a gamba zoffa io sono non sono d'accordo su quando si difende l'allenatore per il semplice motivo che questa lucchese qui cioè si è dimostrato che non siamo stati attenti ai particolari siccome la lucchese è una squadra che ha dei problemi tecnici evidenti non si può non si possono tralasciare particolari e quando parlo di particolari e qui il covid non c'entra niente e qui la mediocrità eventuale dei giocatori non c'entra niente io per i particolari intendo quando si prende un gol come domenica quando si prende un gol come a Gorgonzola al 4 a 3 quando si prende un gol come Alessandri all'1 a 1 quando si fa si fa un faro da rigore come contro la Pro Sesto che ci è costata la partita io mi riferisco a queste cose qui cioè non siamo stati attenti ai particolari io non so cosa preparano durante la settimana ma quando vedo gol presi in quel modo lì significa che non siamo attenti particolari perché lo ribadisco io dalla panchina se vedo che i miei difensori centrali scendono tutti e tre su un calcio di punizione al decimo minuto del primo tempo ad Alessandria quando sono in vantaggio io li faccio tornare a casa a piedi quando io prendo un gol come domenica a Piacenza con 4 difensori in area di rigore e fanno saltare da solo il giocatore del Piacenza sul dischetto di rigore io li faccio tornare a casa a piedi quando io prendo un gol come a gol gonzola e scendono tutti i difensori addirittura da 40 metri tira la punizione Venassi e si prende il gol della sconfitta al 92esimo io li faccio tornare a casa a piedi quindi vuol dire che probabilmente qualche colpa ce l'ha anche l'allenatore perché scarci si può essere il covid ha inciso ma queste cose qui non ci incastrano niente né col covid né con l'eventuale mediocrità dei giocatori questo è il mio pensiero Armando il silenzio stampa la ciliegina sulla torta di una stagione fallimentare invece di preoccuparsi quanto potevano farlo sempre che ne avessero avuto la forza euro di allestire una squadra un po' competitiva si chiudono in un modo poco elegante mi spiace perché a Bruno penso che riferimento sicuramente a Bruno Russo e a tutto lo staff almeno io personalmente li ringrazio lo stesso Armando nessuna dignità abbiamo perso anche la faccia dice questo amico che non si firma buonasera devo dire che a inizio del girone di ritorno mi ero illuso che fosse iniziata la rimonta mi sono sbagliato ora non resta che sperare in un miracolo se posso dare un consiglio alla società direi di non perdere tempo con la burocrazia iniziare subito i lavori di ristrutturazione del Porta Elisa ma questo Antonio non dipende solo dalla società come sai ci sono vari passaggi va bene anche una sistemata la meno peggio no ma non può essere così mettere seggioline adeguare l'illuminazione Antonio non può essere solo così stavolta il passo deve essere completo altrimenti perché anche avendo i quattrini io vedo improbabile un ripescaggio con lo stadio ridotto com'è ora e questo è Antonio intanto sulle immagini che appunto Marco Cervelli ci sta proponendo dicevo già prima che insomma l'allarme in annelli pare rientrato e quindi con Livorno giocherà sicuramente ha recuperato una buona condizione anche Michele Locurto che è uno degli esterni di cui Lopez dispone che domenica scorsa non era presente per un problemino muscolare sicuramente sarà in campo ormai recuperato anche Flavio Bianchi mentre Marcheggiani dovrebbe partire dalla panchina Marcheggiani che sta convivendo con un po' di pubalgia e poi chiaramente c'è a questo punto ancora da capire quale sarà il modulo con cui Lopez metterà in campo la squadra se verrà riproposto quello di Piacenza dove aveva cambiato oppure il classico 3-5-2 e comunque per ora non ci possiamo ancora sbilanciare forse bisognerà aspettare la rifinitura di sabato di sabato mattina Giulio il modulo a questo punto non lo so fino a che punto può contare perché a Piacenza ho visto che ha provato a cambiare qualcosa ma alla fine adesso credo che siano altre le componenti che forse possono più incidere determinazione quella grinta quella cattiveria anche che a dire la verità non si è vista quasi mai quest'anno non so se sei d'accordo io ci leverei quasi la cattiveria non si è vista mai senza quasi a questo punto parlare di se mi viene da ridere provare a cambiare qualcosa le ultime quattro partite quando c'è stato un girone e mezzo a disposizione per provare a cambiare qualcosa e voglio dire non è che la lucchese ha avuto una parabola discendente nelle ultime settimane la lucchese non ha mai avuto la parabola ascendente quindi se si voleva cambiare si doveva cambiare qualche settimana fa come abbiamo detto anche in qualche trasmissione tante partite potevano essere affrontate in maniera diversa magari partite dove dovevi provare a vincere dove invece ti sei sempre accontentato del punticino ricordo che il punticino è una mezza sconfitta e la lucchese aveva bisogno di vittorie per risalire la classifica infatti la dimostrazione purtroppo è questa che la lucchese a quattro giornate dalla fine siccome si è accontentata troppo spesso di non perdere invece che provare a vincere si ritrova probabilmente con una forbice dice che anche se evitasse l'ultimo posto anche se evitasse il penultimo posto probabilmente la potrebbe portare rischia vediamo la classifica rischia la vedete dovete considerare penultima quintultima terzultima quartultima in questo momento la forbice condannerebbe sia la lucchese che la pistoese ma forse Giulio sul discorso del punticino allora per la serie nella rubrica c'è posta per te ha ragione lui che dice carissimo opinion leader quindi parte bene no? certo la serie di è dietro l'angolo quindi qui un po' e fino a qui ci piove domenica un bel pareggio che non serve a nessuno né a voi della lucchese né a Livorno è Leo Leo sì sì aspetta fammi finire il messaggio voi avete una società non garante non so non so di cosa sta in questo caso veramente ora non so di cosa sta parlando perché ora al di là di tutto abbiamo detto più di una volta che la lucchese forse è tra le non molte tra le non tante società che a livello di contributi di pagamenti e su quello non si può dire nulla però lui dice avete una società non garante come quella del Pisa ora vabbè domenica finirà 1 a 1 ha già fissato anche il risultato risultato che non serve a nessuno ribadisce e lo stadio aggiunge non lo farete mai Leonardo da Cascina domenica si anticipa il derby del prossimo campionato in Serie D vero Opinion Leader? ma so questa tessera gliela fai fare o no? perché non gliela vogliono fare ha detto delle cose giuste ma poi come al solito mi fa la pipì fuori dal basino quando dice che lo stadio non lo faremo mai allora o sei uno della sovrintendenza e sai già determinate cose altrimenti Leo lo sai il caffè a Cascina vengo e te lo offro io pago io da buon lucchese te lo offro io il caffè tanto il numero Guido me lo dà ti contatterò a breve aspettiamo di essere truscessi ufficialmente poi ti vengo a cercare a Cascina vai tranquillo si fa così bravo Opinion Leader buonasera sono Linda leggo questo e poi devo andare all'ultima pubblicità come ha detto Giulio la possibilità di fare play out ce la siamo giocata contro Prosesto e Giana con 4 punti in più che erano più che fattibili saremmo riusciti a disputare io comunque sarò troppo tifosa o crederò ai miracoli ma ci credo ancora con 8 punti penso che riusciremo a fare play out però non chiedetemi come faremo a vincere 2 su 4 quando ne abbiamo vinte 5 in tutto il campionato perché dice Linda non lo so non lo sappiamo neanche noi Linda poi chiude spero che domenica i giocatori ci mettano l'anima perché per noi è comunque un derby molto sentito e ci teniamo a vincere al di là di tutto un saluto a Giulio grande tifoso grande opinionista grande esperto di calcio beh ora Linda però insomma un grande lo propongo come questa è nuova Linda ti ringrazio perché d'ora in poi non sarà solo l'opinion leader sarà anche il match analyst su questo direi su questo direi che possiamo andare gongola molto io vado in pubblicità e poi torniamo per il gran finale 22.46 ce ne rimangono 14 per arrivare alle 23 dunque per chiudere anche questa 26esima puntata siete tantissimi veramente straordinario l'affetto con il quale ci state seguendo in quest'ultimo periodo veramente vi dobbiamo io l'opinion leader ringraziare tutti allora Giulio c'è quest'altro messaggio di Stefano da Lucca che dice quando si deve giudicare una squadra di calcio bisogna sempre vedere i numeri Stefano è sacrosanto quello che dici questi parlano chiaro non abbiamo una squadra sufficientemente attrezzata per la categoria e cosa gli vuoi dire a Stefano nulla poi ma quale fiammella prego Giulio che ha ragione che però io ripeto quando le cose vanno male includo anche le guide tecniche poi Luca da Lucca ma quale fiammella ci deve essere ci mette due punti interrogativi è tutto il campionato che siamo ultimi non c'è mai stata una svolta la retrocessione è quello che ci meritiamo sempre forza Lucca Luca da Lucca appunto buonasera a tutti vorrei chiedere a Giulio se secondo lui non avrebbe fatto comodo in quella difesa di un Marcantonio come Matteoni che fra l'altro a costo zero proveniente dal nostro settore giovanile e ora penso senza squadra per mancanza di assistenza tecnica procuratore grazie e forza sempre Pantera Giulio ti chiedo veramente così riusciamo a smaltire più messaggi Matteoni non so se lo conosci mi sembra che ha debuttato non mi ricordo se l'anno di Bisceglie o qualcosa del genere fece un'apparizione mi sembra ma sai fare meglio della difesa di quest'anno ci vuole poco e quindi Matteoni sarebbe stato sicuramente utile alla Lucchese ma come senza niente togliere a Matteoni che non conosco tra le altre cose ripeto una difesa che prende 56 gol credo che qualsiasi difensore avrebbe fatto comodo poi c'è un messaggio che non vi possiamo far vedere la foto dove c'è anche il logo della Lucchese tutto il resto è noia si rifanno alla celebre canzone del compianto califo Andrea Enrico Curvo Ovest del Porta Elisa vada ancora avanti mentre Marco poi prepariamo velocemente le immagini dell'andata di Livorno Lucchese e poi anche la tabella con le partite e con quello chiuderemo fra qualche minuto ciao sono Alessio Dalunata noi tifosi siamo tutti arrabbiati beh come dargli torto ma tutti rossoneri russo detto la ruspa siamo sempre con voi non vi lasceremo mai 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 e questo anche è un bel messaggio mentre Marco ci propone le immagini dell'andata vi ricordo la partita che finì 1 a 1 anche in questo caso Giulio la Lucchese andò in vantaggio nel primo tempo con Bianchi su rigore se non ricordo male poi ci fu il pareggio del Livorno nella ripresa con Parisi allora continuiamo a leggere i messaggi perché Magrini alla guida del Grosseto fa giocare la squadra con ottimi risultati eppure è una squadra giovane con poca esperienza mi dispiace dirlo ma Lopez purtroppo per lui non è stato all'altezza della situazione non ha dato un'identità alla squadra creando dei buchi anche di 20 metri tra difesa e centrocampo non riuscendo mai a tenere la squadra corta specialmente sulle ripartenze i difensori devono stare più alti queste sono le basi del calcio nel bene e nel male Forza Lucchese ci mette un cuore rosso e uno nero Paolone Di Moriano che mi sembra abbia sposato cioè sia un po' in linea con quello che insomma sta dicendo anche Giulio va beh ho fiducia nel gruppo e nel progetto ma è una gioia l'unica cosa giusta che ha fatto questa società quest'anno l'ha fatta ora il silenzio stampa post scriptum Deoma lo vedo bene va beh poi fate altre considerazioni manaccia insomma va beh dai non esageriamo insomma non ti piace Deoma è chiaro che Deoma insomma è chiaro che in una situazione del genere l'abbiamo già detto è nell'occhio del ciclone più di altri allora innanzitutto buonasera voglio precisare una cosa riguardo non al silenzio stampa ma bensì a quello che è stato detto la puntata scorsa sul fatto che c'è accanimento con questa società e negli anni scorsi invece secondo lei Casotti l'accanimento non c'era beh io posso dire al 90% se non al 100% che c'era accanimento anche gli anni scorsi con la società e quindi lei ricorda male io la stimo come conduttore però non ricorda bene riguardo al silenzio stampa beh io credo che proprio il silenzio sia l'unica risposta da dare a questa gente grazie un grazie per il lavoro che fate per la trasmissione che fate sulla nostra lucchese Davide da Lucca Davide io ti ringrazio anche se vabbè io non ho la pretesa di essere sempre nel nel giusto Giulio su sulla sulla chiamiamola accanimento chiamiamole critiche che è meglio perché accanimento mi sembra anche un termine poco simpatico sulle critiche a questa società e a quella diciamo che poi ha portato la lucchese al fallimento a ragione questo nostro amico io avevo detto che secondo me mi sembrava io mi basavo anche proprio sui messaggi che sono arrivati in quest'ultimo periodo diciamo che le critiche ci sono sempre state ovviamente quelle critiche erano giuste perché la lucchese era senza società ok assolutamente qualcuno giocava anche con giocava all'interno della società vendendola quell'altro la comprava poi però la rivendeva eccetera eccetera quindi diciamo lì le critiche c'erano erano giuste perché era veramente si trattava veramente di personaggi squalli e quindi le critiche c'erano e giuste in questo caso secondo me le critiche ci dovevano essere perché poi quando una squadra va male è normale che ci siano critiche alla società che è quella che comunque mette in piedi lo spettacolo quindi è normale che ci siano però ecco diciamo siamo andati secondo me un po' troppo nel personale con certe persone della società e siamo andati un po' fuori dai binari perché poi si fa pesta a passare dalla ragione al torto quando invece che diciamo criticare professionalmente una persona si scende nella vita privata quello che hai detto prima invece si passa dalla sfera tecnica a quella privata via che non va bene esatto ciao Guido e Giulio sono Luca da San Pietro a Vico oggi è il mio compleanno beh tanti auguri allora Luca ma gli auguri vorrei farli alla Lucchese perché possa miracolosamente salvarsi nonostante le medie le medie dice da ufficio conchieste di Olbi e Gianna questo lo dice naturalmente Luca noi ci dissociamo io mi accontento di un saluto dell'opinion leader opinion leader è Luca San Pietro a Vico dai allora Luca tanti auguri pensa a passare serenamente queste ultime ore del tuo compleanno a Lucchese cominciano a ripensare da domani dai stasera goditela a proposito di strapparci e brinda a proposito di strapparci un bel sorriso caro Giulio sono il marito non io eh ti scrive sono il marito di Catiuscia eh finalmente no no aspetta fammi finire complimenti a Castagnoli vestito da Lady Oscar ora io non so se se Marco fa il tempo a cercarci Lady Oscar non lo so che rapporto c'è tra risultati sportivi e costruzione dello stadio ti fa anche una domanda e poi aggiunge ma come fa a Garbanni il Castagnoli e la mia moglie io credo che questo sia vero eh a presto Lino Lino Cuccio Cuccio allora ma proprio in dieci secondi il rapporto risultati sportivi stadio beh l'abbiamo detto eh sì no non c'è non c'è un rapporto ovviamente in questo momento qui non ci può essere un rapporto risultati sportivi stadio perché se no eh si bloccherebbe il meccanismo ovviamente proprio perché non c'è rapporto risultati sportivi stadio credo che lo stadio andrà avanti a prescindere da quello che saranno i risultati sportivi e poi chiaramente con uno stadio eh che ci vorranno degli anni affinché si materializzi e venga terminato magari in quegli anni il rucchese dovrà fare il possibile l'impossibile per salire una barra due categorie buonasera sono dispiaciuto ovviamente ma non capisco perché da alcune settimane diamo per scontato il destino della retrocessione invece di cercare di spronare i giocatori a vincere a tutti i costi e provarci fino alla fine magari anche con maniere cosa intendi con maniere forte non lo so però un saluto Marco Damagiano ecco casomai quello che mi hanno detto tante volte nei messaggi insomma i tifosi che vorrebbero vedere magari la lucchese che qualche volta finisce la partita anche in dieci qualche cartellino giallo in più forse le maniere forte intendeva intendeva quello Capitan Casotti davanti e dietro tutti quanti vabbè qui Giulio forse quando mi sono stasera sono stato tranquillo devi dire come sono stato mi sono leggermente diciamo innervosito sulla storia di Schettino perché io proprio Schettino la vicenda di Schettino ce l'ho qui perché sono cresciuto nell'idea che il capitano veramente quello della nave quello di una squadra di calcio quello di di qualunque cosa voi vogliate che può essere un capogruppo di un gruppo di lavoro è l'ultimo è il primo che arriva è l'ultimo che va via io sono proprio cresciuto con queste idee con questa filosofia quindi sentirmi dire che insomma comunque Dario Dauzano sei lo stesso simpaticissimo vi manca mica il quarto Roberto non so in che senso il rosso nero ti dona è scritto giudo ma probabilmente vorremmo dire guido buonasera vado in controtendenza rispetto a Castagnoli dicendo che di questa rosa salverei solo Coletta il resto dal punto di vista tecnico è veramente poca roba compreso Meucci vorrei a Curvo Ovest più giornalisti e meno dirigenti S. Lucchese comunque bravi voi forza Lucca Giacomo qui insomma tu avevi citato una serie di nomi lui si limita a Coletta sul fatto di avere giornalisti stasera abbiamo avuto Stefanini abbiamo già pronti altri già da giovedì prossimo non vi anticipo nulla e quindi buonasera sono Luigi da Villa Basilica volevo fare i miei complimenti a Stefanini per la sua professionalità beh li rigireremo sicuramente a patto che Massimo non ci stia sempre seguendo pure a te Guido e dal grande Giulio continuate sempre così ti ringraziamo poi ottimo tempismo della società con questo silenzio stampa De Oma può smettere di sudare freddo no ma guardate veramente vi dico De Oma sarebbe stato tranquillamente beh non qui allo stadio stasera io ci ho parlato anch'io come ci ha parlato Giulio quindi non pensate che De Oma può avere anche lui come tutti noi mille difetti ma è una persona che non scappa questo ve lo garantisco è una persona che non scappa di fronte alle sue responsabilità poi dice senti Giulio al volo a Beppe di Bua Bua dov'è cosa mi dite delle voci che vorrebbero Riccardo Corredi al timone dal prossimo anno d'altro salutiamo l'amico Riccardo Corredi che da tanti anni è anche un nostro inserzionista al volo Giulio perché abbiamo due minuti ti ha aggiunta questa voce sei nulla Riccardo Corredi no non sei nulla quindi noi non abbiamo conferma si dorme per terra noi poi c'è il capello l'amico capello da Firenze vorrei dire che secondo me la società ha voluto risparmiare a De Oma l'agonia a cui i tifosi lo avrebbero messo il tecnico per gli errori fatti soprattutto a gennaio in cui non si è voluto rinforzare la squadra sarebbero venuti a Lucca anche ex giocatori della salvezza miracolosi di Bisceglie lui fa il nome di Lombardo Mauri ma si è preferito prendere nulla addirittura un giocatore del campionato di promozione Mario Capello anche Manuel Pera era libero poi Manuel Pera è andato qualche settimana fa al Forlì leggo questo fiducia che riusciremo a salvarci non vedo l'ora di tornare a cantare in curva insieme a mio figlio Leo Frenci del Principato di Camigliano ma è annesso anche noi il Principato di Camigliano è sotto già la tua giurisdizione sotto la Repubblica di Lucca certo poi vi prego distinguiamo il club Cascina Forza Lucca da Leo che di Lucchese non ha niente no vabbè questo l'avevo già letto ha mandato sia poi c'è poco da recriminare purtroppo la classifica rispecchia il valore della squadra Forza Lucca a prescindere orgoglioso di essere Lucchese Gianluca siete straordinari siete tanti veramente si direbbe una volta si sarebbe detto un successo clamoroso buonasera sono di nuovo Mirko una domanda per Giulio quanto è venuta a costare questa stagione allora Giulio rispondi al volo poi dobbiamo vedere le partite e dobbiamo chiudere qui se hai delle cifre non lo so quanto con precisione non so di itro assolutamente credo che la Lucchese avesse un budget in linea con 7-8 squadre della categoria purtroppo la Lucchese ha sbagliato più di altre squadre della categoria che ci stanno precedendo in classifica tutto qua un'ultima cosa salutiamo l'amico Jack Sparro lo salutiamo sempre hai mandato un messaggio lunghissimo Jack leggo proprio l'ultima riga perché poi vabbè facevi tante considerazioni insomma che la Lucchese è un po' un porto di mare tutti gli anni dici qui tutti gli anni vanno e vengono decine e decine di calciatori come vuoi fare a creare un minimo di amalgama e attaccamento alla maglia e beh come darti torto Jack Sparro in questo caso è anche vero che la Lucchese nel tempo è fallita è ripartita ha fatto anche categorie diverse quindi è difficile creare quello che dice Jack Sparro è giusto ma lo devi creare in categoria cioè devi rimanere due o tre anni in serie C creare una bella base e poi magari puoi andare anche in serie B le partite che già Marco ci sta proponendo si comincia sabato alle 15 con Albino Leffe e Carrarese vedremo se la Carrarese riuscirà a spezzare questa a interrompere questa che sembra veramente una caduta libera della squadra marmifera poi domenica 12.30 Juventus B Pontedera alle 15 Como Grosseto soprattutto Lucchese Livorno Olbia, Gianna, Erminio Pistoiese, Renate poi alle 17.30 a completare la giornata Pergolettese, Piacenza Propatria, Novara Processo, Alessandria Pro Vercelli, Lecco caro Giulio siamo in chiusura naturalmente io ringrazio già Marco Cervelli per il supporto tecnico dalla regia ringrazio te noi ci ritroviamo giovedì come sempre come sempre al posto di combattimento grazie Giulio dal salone grazie a voi buonanotte quegli armadi non li inquadri più e mi vengono forti dubbi a me non so neanche se forse c'è un armadio buonanotte Giulio grazie bene è davvero tutto è davvero tutto e vi ringrazio per averci seguito fin qui e naturalmente torniamo come detto fra una settimana sempre alle 21 da Curvo Ovest e diciamo solo questo la speranza è l'ultima a morire tanto vediamo che succede domenica e poi sarà l'ora casomai di fare anche i bilanci stagionali buonanotte ciao 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 Grazie a tutti.